Buongiorno, ben trovati appuntamento di venerdì preferito Buongiorno, ben trovati appuntamento che apriamo come sempre con le prime pagine dei nostri quotidiani Partiamo dalle 4 edizioni del centro, l'edizione di Pescara, vediamo quali sono i titoli principali Eccola qui, attaccato alla vita fino all'ultimo respiro, si parla del delitto di Vasto Così è morto Italo De Lisa, 22 anni, ucciso da Fabio Di Lello Parlando al cellulare finché ha potuto E poi in alto, soldi per il sisma, salvi tribunali Decreto terremoto proroga fino al 2020 per gli uffici giudiziari abruzzesi E poi nella parte alta della pagina si torna sulla tragedia di Rigopiano Il direttore dell'hotel è tutto a posto ma c'era già la valanga quotidiano nazionale Repubblica che ha reso nota la telefonata tra il direttore dell'hotel e la prefettura di Pescara E poi si parla del centro regionale Trapianti, si è arrivati a quota 504 Però le donazioni sono poche in basso, parlando sempre di Pescara Emergenza, polveri sottili, mezza città avvolta dallo smog E poi in lutto il commercio cittadino per la scomparsa di Capecchi Imprenditore nel ramo dei tessuti Allora lasciamo la prima pagina del centro, edizione di Pescara Andiamo a vedere come sempre le altre prime pagine Siamo a quella di Chieti, anche in questo caso ovviamente come nelle altre edizioni Il titolo principale riguarda la tragedia di Vasto E poi in basso invece a Chieti, nuovo ospedale Arriva lo stop dalla Asle, a Lanciano in pensione Il primario nemico dei tumori Siamo alla prima pagina del centro, edizione di Teramo Si parla in basso di scuole Scuole sì, ad altre riaperture Dopo il terremoto la De Giacobis oggi si riapre Come altri istituti, la Noe Lucidi invece aspetta E poi a Mosciano, esalazioni tossiche Via ai controlli sul terreno Siamo alla prima pagina del centro, edizione dell'Aquila In alto ritroviamo sempre i titoli delle altre edizioni In basso invece andiamo a vedere i titoli che riguardano l'Aquila e provincia In questo caso siamo nella Marsica d'Avezzano Finta invalida, nuove indagini dopo i due arresti Si indaga sul ruolo di altri otto medici E poi all'Aquila settimane dello sport a rischio e scontro Vediamo anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero Anche in questo caso in primo piano La vicenda di Vasto Parla il papà di Roberta Smargiassi Che dice basta odio E poi rigopiano gli sms dei sindaci Troppo tardi In alto si parla invece di sport Anche di sport sulla prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero Serie A Pescara evitare l'ultimo posto contro la Lazio Tocca a Montari Infine la prima pagina del quotidiano La città Decreto beffa sulle zone franche Teramo e tutti i comuni fuori dal cratere Non godranno degli stessi benefici previsti E poi per quanto riguarda la vicenda di Mosciano Indagini in corso sulla nube tossica per il Ruzzo Il pericolo è cessato In basso lo sport in chiave Teramo Il padron Campitelli da ragione tifosi Giusta la loro contestazione Allora abbiamo visto le prime pagine dei quotidiani abruzzesi Oggi in edicola Possiamo andare a vedere velocemente anche i titoli dei quotidiani nazionali Che troverete questa mattina in edicola Partiamo dal Corriere della Sera Raggi il caso della polizza Ottore di interrogatorio sulle nomine La difesa non ne sapevo nulla Poi in alto Renzi Potrei non candidarmi premier primari E poi il voto Oppure si va al 2018 Repubblica nuove accuse Raggi in bilico E poi a centro pagina La Romania in piazza Basta corruzione Problemi nel paese balcanico Siamo al messaggero Una polizza in guaio alla Raggi Tutti i titoli principali riguardano questa vicenda E poi Padoan Ministro delle Finanze Gela l'Unione Europea L'ipotesi infrazione riduce La sovranità Siamo al quotidiano libero Governo complice dei ladri Copre e finanzia i bidonisti del Monte dei Paschi E poi la politica a centro pagina Giorgia Meloni Piccola grande donna Che tiene testa agli uomini Il giornale Una polizza vita uccide la Raggi Scandalo in Campidoglio E poi nuove tasse in arrivo Padoan si arrende Agli ordini dell'Europa Siamo alla stampa di Torino Patto Italia-Libia Stretta sulla rotta dei clandestini E poi vedete a centro pagina Anche in questo caso Si parla della polizza segreta Raggi rischia le dimissioni E poi il tempo di Roma Raggi allo stadio terminale Questo è il titolo un po' ad effetto Del quotidiano romano Che parla anche della questione stadio Del nuovo stadio che vorrebbe costruire la Roma Nella capitale avvenire Accordo Italia-Libia Stop agli irregolari E poi Padoan placa l'Unione Europea Ma teme l'infrazione Fondi ai terremotati Il Gazzettino di Venezia Raggi nei guai Per una polizza E poi in alto Orge in canonica Sospensione Per Don Contin Il mattino di Napoli Una polizza Travolge la Raggi Spunta un contratto da 30.000 euro Intestato a lei da Romeo Prima della nomina La Gazzetta del Mezzogiorno Roma La Raggi nell'angolo E poi l'Italia Rassicura l'Unione Europea Padoan è preoccupato Il secolo XIX di Genova Sindaci Liguri Sia al piano per i migranti E poi anche sul quotidiano genovese Si parla della vicenda a Roma Vicenda a Campidoglio Raggi la polizza segreta Che può costarle il posto L'unità si parla di politica In questo caso torna il centro-sinistra Primarie di coalizioni In basso raggi il regalo di Romeo Lui l'assicura per 30.000 euro Lei gli triplica Lo stipendio Siamo al sole 24 ore Padoan la correzione Del 0,2% Prima del decreto Il titolo del quotidiano economico finanziario L'ultimo giornale che prendiamo in esame Per quanto concerne I quotidiani nazionali Che questa mattina sono in edicola Abbiamo già visto Le prime pagine dei quotidiani abruzzesi Oggi in edicola Allora possiamo ripartire dal centro Per andare a vedere le pagine interne Ovviamente in chiave abruzzese Per quanto riguarda il giornale di oggi Si torna a parlare a pagina 2 Della vicenda di Vasto Delitto e castigo Nel cellulare di Italo La chiave dell'omicidio Vasto di Lisa colpito a morte Da Di Lello Mentre parla al telefonino C'è quindi un testimone che sa E c'è una telecamera Che ha ripreso tutto Poi in basso Lui un fornaio L'altro era operaio Italo mandato via Dalla protezione civile Voleva portare soccorsi A Farindola E poi la città di Visa Parla anche L'arcivescovo Di Chieti Vasto La firma del Premier Del Presidente del Consiglio Gentiloni Possiamo andare a vedere dunque Questo servizio Le dichiarazioni del Premier Proprio dopo la firma Del decreto Il Consiglio dei Ministri ha Approvato il decreto sul terremoto Lo facciamo con misure Che sono Riassumibili Grosso modo in tre grandi capitoli In primo luogo Capitolo Diciamo Semplificazione E velocizzazione Procedurale Da parte di tutta la Catena Amministrativa In secondo luogo Misure di Semplificazione Per quanto riguarda Le modalità Per realizzare Le nuove scuole Le 21 che sono già Programmate E altre Un gruppo di misure Che sono Invece indirizzate Direttamente Ai cittadini Residenti Nell'area Colpita Stiamo parlando Della cassa integrazione Stiamo parlando Della cosiddetta Busta paga Pesante Stiamo parlando Della Introduzione Anticipata Rispetto a norme Che Come sapete Sono in discussione Con una legge delega Al Senato Di norme A favore Della povertà Stiamo parlando Di Meccanismi Di Sospensione Sospensione Del pagamento Dei tributi E di agevolazione Fiscale Abbiamo Misure di sostegno Alle imprese Anche attraverso Misure di tipo fiscale Abbiamo misure di sostegno All'agricoltura E agli allevamenti In parte basate Anche su fondi Europei Abbiamo risorse Nella legge Di bilancio Ne stiamo mettendo In campo Ulteriori Con questo Decreto Abbiamo già Parlato Della necessità Di ulteriori Risorse Nella lettera Di Padoan Si parla Di Almeno Un miliardo Che Nelle prossime Che nel prossimo periodo Sarà Necessaria Ma sul provvedimento E subito polemica A fondo pagina Vedete questo articolo Parla il Presidente Della regione Luciano D'Alfonso Che dice Ricepite quasi tutte Le nostre istanze Poi C'è la risposta Del consigliere Di centrodestra Paolo Gatti Che dice Scomparsa la zona franca Mi incateno E poi Tribunali abruzzesi Un'altra importante notizia Che riguarda La proroga Fino al 2020 Salvi per adesso Gli uffici giudiziari Di Avezzano Sul Monalanciano E Vasto Ma adesso Si tratta Di trovare L'accordo regionale Per l'assetto Definitivo In basso Ora possiamo salvare Due sedi su quattro La sottosegretaria Alla giustizia Federica Chiavaroli Dice C'è tempo Per una soluzione Condivisa E poi siamo Alla tragedia Di Rigopiano Non fate morire Anche Farindola Lo sfogo Dell'ex sindaco Gian Caterino Rischiamo Di andarcene Tutti E poi L'hotel Che doveva Rilanciare il turismo Ecco Che cosa affermò In tribunale L'ex sindaco De Vigo Fummo noi A stimolarne La riapertura E poi Parlano gli esperti Dopo Questa tragedia La tragedia Del 18 gennaio scorso Il potente spostamento D'aria Ha sradicato Tutti gli alberi E poi Ritroviamo La notizia Che abbiamo visto In prima pagina L'equivoco Della telefonata L'amministratore Disse Li ho sentiti Fino a mo Dopo il primo allarme Di parete La prefettura Contattò Il responsabile Del resort Per verificare La veridicità Di quei crolli E lui rispose Di non Saperne Niente E poi La politica Il caso Raggi Spunta Una polizza Abbiamo visto I titoli Su tutti i giornali In pratica Su questa vicenda Possiamo andare Velocemente Spostarci Alla cronaca Della nostra regione Medicina Di eccellenza Si parla dunque Di sanità Tra pianti D'organo Raggiunta Quota 504 I dati Del centro regionale Dell'Aquila Sono sicuramente Positivi Ma nelle donazioni Invece L'Abruzzo È maglia nera Il 40% Dei familiari Si oppone Parla il professor Pisani Che dice Si può esprimere Il consenso Sulla carta D'identità E poi in basso Cambiando argomento Si parla di trasporti Il contratto Trenitalia Regione Finisce davanti Alla tar Ricorso Di feder consumatori ACU E ARCO Nessun coinvolgimento Delle associazioni E dei pendolari Questa La motivazione Che ha portato Al ricorso Al tar Ancora pagina regionale Del centro In alto Si parla di lavoro Air One Bloccata Da mesi L'indennità Di mobilità Per Air One Technic E poi Cattedre Trasporto Disabili Sclocco Incontra La Fedeli Dunque L'assessore regionale La pubblica istruzione Incontra Il ministro E poi Centri di ricerca I dipendenti Ancora Senza stipendio Parliamo Dei dipendenti Del Crab Del Cotir Del Crivea E poi in basso Un'etichetta europea Per il miele italiano E la richiesta Degli apicoltori Professionali Riuniti a vasto Per il 33esimo Convegno Nazionale Di categoria E siamo La pagina Di Pescara Dunque possiamo Iniziare A vedere Le cronache Provinciali Sempre Dal Cotidiano Il Centro Torniamo a parlare Dei danni Da maltempo L'appello Dei sindaci Ci servono Più soldi Gli amministratori Di centrodestra Chiedono aiuto A governo E regione I fondi Per le imprese Dicono Non sono sufficienti Vanno ridotte Anche Le tasse E ieri Ci sono stati Problemi Anche per L'erogazione Dell'acqua potabile In migliaia Hanno avuto Disservizi Il guasto Causato Dallo scioglimento Della neve Ha creato Disaggini Molti Comuni E poi La cronaca Giudiziaria In basso Sparò la moglie Alle gambe Tre anni e quattro mesi Condannato Moreno Sagazio Aveva fatto fuoco Dopo una lite In casa In via Lago Di Capestrano Ancora cronaca Da Pescara Bomba Alla stazione centrale Ma è un fasso allarme Controlli senza esito In cinque scali Individuato Chi ha telefonato E poi Tassisti Adesso la toilette Costa un euro Protesta degli operatori Per l'aumento Di altri 30 centesimi Per usufruire Dei bagni Della stazione E poi Ruba merendine Le offre i malati La polizia cerca L'autore del furto Al bar dell'ospedale Ripreso Dalle telecamere Andiamo avanti Emergenza smog A Pescara Mezza città Invasa Dalle polveri sottili Superati Di nuovo I limiti Nella periferia Ovest Parla L'assessore scotolati Che convoca Arta E Setems Decideremo Le misure Dice Antitraffico E poi Politica In questo caso Dopo la bufera Della mancata Approvazione Del bilancio Ricorderete Di due giorni fa Si riapre Lo scontro In consiglio In basso Riscossione Tributi Esposto Di Forza Italia Lettera All'ANAC Per il servizio Scaduto E poi Scuole San Silvestro Al via I lavori Entro la prossima Estate E poi Ritroviamo Anche In questo caso La notizia Che abbiamo visto In prima pagina Addio a Capecchi Pioniere del Commercio È morto Il fondatore Del noto marchio Di biancheria E tessuti Dirigente Della Conf Commercio Domani Si terranno I funerali E poi Multa All'ex Questore Ricorderete Questa vicenda Vince Il vigile Il tribunale Infatti annulla La sanzione Disciplinare All'agente Della polizia Municipale Finito In tv I paesaggi Più belli Dentro il reparto Della sofferenza Gigantografie Delle foto Del primario Spina Rianimazione Il manager Dell'Aslo Un sollievo Per i malati E i loro familiari A tal proposito Ieri vi avevamo proposto Proprio nel corso Del nostro telegiornale Un servizio Su questa iniziativa Sicuramente importante Presentata ieri All'ospedale Di Pescara E poi Pasotti Mi sento pescarese E farò un film Sul bate L'attore Bergamasco Si racconta In comune Agli alunni Delle scuole Michetti e Pascoli L'open night Aperto Con un minuto Di silenzio Per le vittime Della tragedia Di Rigopiano Andiamo ancora avanti Siamo alle pagine Della cronaca Metropolitana Di Pescara Francavilla Masci Il sindaco Attacca la dirigente Accusa Accuse senza basi Consiglio di istituto Fino a notte fonda Sul cantiere Petizione dei genitori Chiedono un certificato Di agibilità E poi a San Giovanni Teatino Maxi tamponamento Alla rotatoria Con tre feriti Tornando ancora Francavilla Via ai lavori Della pista Ciclo pedonale Nord Siamo alla pagina Di Montesilvano Anche come per Pescara Si parla Dei danni Del maltempo Frane Sempre più gravi Ma un milione Non basta E poi a città Sant'Angelo Troppi lutti Cancellato Il carnevale E poi di nuovo A Montesilvano Maschere, marionette E maghi A Porto Allegro Siamo alla pagina Di penne Di popoli E dell'alta val Pescara C'è l'appello al governo Da penne Che sta franando Servono 10 milioni Sono 19 Le contrade Alle prese Con dissesti Idrogeologici Strade impraticabili Disaggi per le famiglie In prese In ginocchio E poi in basso Ancora penne D'Agostino Lascia il consiglio Più contrasti E ora la maggioranza Perde un pezzo Al suo posto Entra Savini E poi a letto Manopello Annullate le multe Al mercato Toppi Si rivolge al prefetto Parcheggi occupati Da cumuli Di neve Siamo alla pagina Di Chieti Del quotidiano Il centro In alto La cronaca Incendio sul balcone Salva 94enne Accaduto a vasto La serranda Prende fuoco Mentre dorme I vicini Danno l'allarme E poi si parla Dell'ospedale Stop anche Dalla ASL Ecco gli atti Inviati Da due funzionari Accantone E alla procura Contro il colosso Di Maltauro A tal proposito Ieri a Chieti Su questa vicenda C'è stata una conferenza stampa Del consigliere Di centrodestra Mauro Febo Che ha parlato proprio Della contrarietà Della ASL A questo progetto Mauro Febo Presidente anche Della commissione Vigilanza regionale Andiamo a sentire Nel servizio Le sue parole Febo Lei parla del project financing Parla di un pasticcio Perché? Ma Non è che ne parlo io Ne parlano I stessi funzionari RUP Della 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 Di Chieti E ne parla Il direttore Degli uffici legali Dove Certificano Che Quella Errata Dichiarazione Presentata Di forme Dichiarazioni Sulla regolarità Contributiva È risultata Non veritire Rispetto a ciò Che certifica L'agenzia D'entrata Di Vicenza Questo Invalida La domanda Il progetto Presentato Questo è un aspetto Chiaramente Non secondario Ma io credo Che ci sia un altro passaggio Ancora più importante In quel documento Quello dove si sottolinea Che è la mancata Programmazione Mi si dice Che si deve fare Un nuovo ospedale Perché bisogna Far diventare Chieti Insieme a Pescara Un'app di secondo livello Ma dove sta scritto Non solo Si fa un nuovo ospedale Ma quali sono Le unità complesse Che rimangono a Chieti Quelle che rimangono a Pescara Quanti posti letto Avrà a Chieti Quanti posti letto Avrà a Pescara Quindi la nuova ingegneristica Sanitaria Come realizzerà Questo nuovo ospedale Non sta scritto da nessuna parte Quindi abbiamo perso Trenta mesi di tempo Abbiamo due Manufatti Che sono stati fatti In cemento armato E che hanno problematicità Che devono urgentemente Essere messi a posto Abbiamo un altro Ospedale Quello di Chieti Che il San Camillo Ha abbandonato E che potrebbe essere utilizzato Anziché farci perdere Questi trenta mesi Avrebbero fatto bene A fare ciò Che da trenta mesi Li sto dicendo Queste le dichiarazioni Di Mauro Febo Restiamo a parlare Dalla pagina di Chieti Del centro ancora di sanità Ci spostiamo a Lanciano Perché va in pensione L'oncologo Antonello Nuzzo Per 40 anni Nemico Del tumore E poi in basso Bucchianico diventa fantastica Il colle si trasforma Nel magico mondo Di Harry Potter E siamo alla pagina dell'Aquila E della provincia dell'Aquila Siamo ad Avezzano In questo caso Pensione con truffa Finta invalida Indagini su altri otto medici L'accusa Ranalli può aver addomesticato Le commissioni E si ipotizza Che la donna Lo abbia anche retribuito Poi caso Bertolaso C'è un nuovo ricorso I familiari delle vittime Dopo l'assoluzione Vanno in appello Ma soltanto Per gli effetti Civili E poi in Valle Peligna Estorce i soldi A Papai Lopicchia Arrestato un 33enne Di Prato la Peligna Non è nuovo A simili comportamenti E poi all'ospedale di Avezzano Infermiere aggredito e ferito Lievemente Da un paziente Siamo alla pagina di Teramo Sempre del quotidiano Il centro A Mosciano Le esalazioni E la paura Allarme chimico Al depuratore L'arta Fa le analisi Sul suolo Risolta l'emergenza Per la perdita Di acido paracetico Da una cisterna Partono i controlli Il presidente del Ruzzo Dice Dobbiamo capire Come mai Il rubinetto È saltato Anche per prevenzione E poi Non svuotate Il lago di Campotosto Questa è la richiesta Di confraagricoltura L'acqua dell'invaso È essenziale Per irrigare 10.000 ettari E poi Un bambino di Bellante Nella finale TV dei pasticceri Questa sera Su Real Time In basso Ci spostiamo Invece a Giulianova Perché Verticelli Nuovo presidente Dell'ente Porto Dice Vela e turismo Proprio per il rilancio Del Porto Giuliese Siamo arrivati Alle pagine Dei programmi televisivi E poi dello sport Dobbiamo passare Invece a vedere L'inserto Abruzzo Del quotidiano Il messaggero Poi vedremo Anche il quotidiano La città di Terra Ma nell'ultima parte Parleremo di sport Ma per il momento Possiamo fermarci Qualche istante Poi torneremo Come sempre In studio Per la seconda parte Di Mattino 6 Torniamo in studio Dunque per la seconda parte Di Mattino 6 Esaurita la lettura Delle pagine Del centro Siamo al messaggero L'inserto Abruzzo Torniamo alla dolorosa Vicenda di Vasto Roberta chiede perdono Non sangue Nicolino Smargiassi Il padre Della donna Investita Da Delisa Dice mio genero Non dovevo uccidere Quel ragazzo Basta Dolore Il papà dita L'ho caduto sotto i colpi Di Fabio Di Lello Dice gesto osceno Non ci sono parole Per commentarlo E poi le indagini E poi le indagini Almeno tre spari Proiettili in testa E all'addome In basso La campagna Dell'odio Lui ormai Si nascondeva E poi parla anche L'arcivesto Di Chieti Vasto Forte Che dice La giustizia Sia più veloce Poi è arrivata anche La risposta Del procuratore Di Vasto Giampiero Di Florio Ma noi Torniamo Su questa vicenda Andando ad ascoltare Nel prossimo servizio L'avvocato Di Fabio Di Lello Cerella E anche uno stralcio Di una dichiarazione Del papà Di Roberta Smargiassi Abbiamo Il procuratore Della Repubblica La dottoressa De Lucia Ha conferito L'incarico Al dottor Pietro Falco Medico legale Hanno presenziato Le operazioni Legali Del Di Lello Io con il collega Cerella E la famiglia Il padre Dell'ISA Sono stati nominati Anche i consulenti Di parte La famiglia Di Lello Ha nominato Come consulente Di parte Il professor Cristian Dovidio E sono state avviate Le operazioni Peritali Abbiamo cominciato Ad avere il quadro Della situazione Aspettiamo Che il GIP Fissi L'udienza Di convalida Non è ancora Stato interrogato Non è ancora È a disposizione Dell'autorità Per essere interrogato Dal GIP Ma non è ancora Stato Fissato L'udienza Per l'interrogatorio Di Lello Adesso rischia L'omicidio Premeditato? Sì No Premeditato Noi diciamo L'omicidio Vi è stato Però bisogna Trovare Delle situazioni Psicologiche Innanzitutto Di colui Che ha posto in essere Questa condotta Che non l'avrebbe Posto in essere Qualora La situazione Psicologica Fosse stata Integrata Situazione Quindi Che è stata Diciamo così Grave A causa Della morte Della vittima Della buona donna E a causa Del comportamento Non devo dire Poco consono Del difensore Quest'estate Con degli articoli Sul giornale Falsi Al 100% Sapeva la famiglia Che era in possesso Di un'arma Di una pistola Regolarmente detenuta Peraltro La famiglia Nella maniera Più assoluta Non lo sapeva E Non lo sapevamo Nessuno Di questa situazione Qua Sapevamo solo Che era sconvolto Nicolino Smargiasi Papà di Roberta Che messaggio La città La città Non sono messaggio Che chiedo perdono A nome di Roberta Perché Roberta Questo non lo voleva Fabio È un bravissimo ragazzo Non so che gli è preso Ma è un bravissimo ragazzo Ma lo sarà sempre Questa storia deve finire Basta quest'astio Quest'astio che c'è Che non è da parte vostra Da parte nostra Non c'è stato astio Ma anche da parte sua Non lo so che gli è preso ieri Non lo so Non lo so come è successo Non lo so Non posso dire altro Tre brave famiglie comunque Rovinate da questa tragedia di luglio Tutte le famiglie sono rovinate Quando c'è la perdita così Tutte le famiglie sono rovinate Ringraziando i colleghi del sito Zona Locale Ora andiamo a vedere anche Uno stralcio Delle dichiarazioni Dell'avvocato Della famiglia Di Italo Delisa Noi eravamo là tutti ieri Oggi Dopo 24 ore Che cosa ti dici? Non ho parole Non ho parole Aspettiamo È giusto venicarsi così? No Non ho parole Sono mortificato anche per la persona che ha fatto quest'atto Oceno Mi dispiace Non lo doveva fare E non ci sono parole Ma il suo figlio si sentiva braccato in qualche modo? Non posso rispondere su questo Avvocato? È stata una campagna mediatica condotta dall'inizio Che ha avuto l'intento di distruggerlo come persona E alla fine c'è stata la distruzione materiale e fisica Avvocato per quanto riguarda la convalida? Ci deve essere prima patopsia e poi si procederà a questo Che messaggio lanciate alla città? Col senno di poi? Forse queste campagne mediatiche fanno male a tutti Lasciamo questa dolorosa vicenda Parliamo ora della cronaca di Pescara Sempre dalle pagine del messaggero Su Whatsapp Gli sms dei sindaci Tragedia scoperta troppo tardi Si parla ovviamente della tragedia di Rigopiano Quel 18 gennaio Nelle comunicazioni del gruppo Si parlò di strade ricoperte di neve Di paesi isolati e senza corrente Poi il rischio di Slavina e Rigopiano Svelato in una relazione del 1999 Ora l'appello dei sindaci Il governo ci aiuti E poi l'equivoco del 118 e 31 Chiamate a vuoto Dunque continuano le indagini Per chiarire quello che accadde in quelle ore Cambiando argomento Sempre dalle pagine di Pescara La scuola del messaggero L'open day Quando la scuola si fa bella Gli istituti superiori Moltiplicano l'offerta formativa Per attirare un maggior numero di iscritti Dalle scuole medie E poi la disabile L'infermiera nella Germania nazista Spettacolo teatrale A Pescara al Florian Che parla proprio di questa vicenda Di questa disabile E questa infermiera Nella Germania Della seconda guerra mondiale Andiamo avanti La politica Forza Italia perde pezzi Giunta nel Mirino Siamo a Montesilvano Nel centro-destra diviso Si chiede un rimpasto Nell'esecutivo Una grana per il sindaco Maragno Ma De Martis minimizza E poi la nascita di nuovi gruppi Ultimo gruppo in ordine di tempo Montesilvano 2009 Alza la tensione Provoca squilibri In maggioranza E poi anche sul messaggero Vedete in basso Viene ricordato Ugo Capecchi Il re dei tessuti di Pescara Scomparso in queste ore Confcommercio in lutto E siamo alla pagina Di L'Aquila Del messaggero Due medici sotto inchiesta Per il suicidio di Luana Ricca La famiglia dice Si è tolta la vita Perché non poteva esprimere Il suo talento Gli avvisi finalizzati A poter esaminare Cellulare, computer E chiavetta USB E poi si parla di politica Di elezioni Le amministrative Nel capoluogo di Regione Silveri lancia Riscatto popolare Poi il PD Rebus sondaggio Chi lo ha ordinato In basso Si torna a parlare di sanità Dei trapianti di Rene Toccata nella nostra regione Quota 504 Poche però Restano le donazioni E poi scuole Ok Alla Caserma Rossi Il ministro della difesa Ha autorizzato La nuova costruzione Del conservatorio Del convitto E di altri istituti Vulnerabili E poi Sede unica comunale Progettazione Al via In basso Invece La fondazione Carispac Per il maestro Mimmo Calandra Proseguiamo Siamo alla pagina Di Avezzano Sulmona Torniamo alla vicenda Dei falsi invalidi Perché l'inchiesta Si allarga Minacce e insulti Intanto la procura Acquisisce una montagna Di documenti Sul caso specifico E poi Prato la Peligna La cronaca Malmenava il padre Per i soldi Arrestato 33 anni Ad Avezzano Aggredisce i carabinieri Con il coltello In manette Un giovane A Sulmona Seconde nozze In Florida Soluzione Per il bigamo Mentre a Pescassero Lì è stato dichiarato Il fallimento Della Gips S.P.A. Tagliacozzo Torniamo Dunque Nella Marsica Perché partono I lavori Sul ponte Proseguiamo Proseguiamo E siamo Alla pagina Di Chieti Sempre dal messaggero La ASL boccia Il project Maltauro In contrasto Con un decreto Abbiamo ascoltato E visto Poco fa Nel servizio Ascoltato Le dichiarazioni Del consigliere regionale Di centrodestra Mauro Febo E poi Notte al Vico Tra letture Musica E degustazioni L'evento Al liceo classico Di Chieti E poi di spalla Vedete Il nuovo questore Raffaele Palungo Il nuovo questore Di Chieti E le sue Priorità Le priorità Che riguardano Proprio La questura Teatina La lotta Alla droga E alle infiltrazioni Malavitose Proprio in provincia E noi ieri Siamo andati Ad ascoltare Proprio il neo questore Del capoluogo Teatino Raffaele Palumbo 61 anni Originario di Andria Ma umbrio Di adozione E da ieri Il nuovo questore Di Chieti Succede a Vincenzo Feltrinelli Che aveva guidato La questura Teatina Dall'ottobre Del 2015 Da oltre 30 anni In polizia Palumbo È stato questore Vicario a Perugia Prima della nomina Dirigente Della zona Di polizia Di frontiera Di Puglia Abruzzo E Molise Nella sua carriera È stato dirigente Fra l'altro Della squadra mobile Di Padova E primo dirigente Presso la questura Di Terni Raffaele Palumbo È al suo primo In carico Da questore Nell'incontro Con la stampa Questa mattina Ha focalizzato La sua attenzione Sulla situazione Soprattutto del vastese Che presenta Anche problematiche Di infiltrazioni Della malavita Organizzata Anche la provincia Di Chieti Come tutte le province italiane Non sono isole felici Per cui L'attenzione Deve essere sempre alta Un'attenzione Anche competente E efficace Infiltrazioni Ci sono state E questo dimostra Alcune indagini Che sono ancora in corso Soprattutto Nella parte sud Della provincia Di Chieti E quindi Sono elementi Che lasciano Dedurre Che comunque Le infiltrazioni Ci sono state Ma sicuramente Ci sono ancora Per cui La nostra attenzione Sarà massima Anche In questo settore Ma non solo In questo settore Anche Per quando riguarda Il traffico Delle sostanze Superfacenti Perché Il recente sequestro Di sostanze Superfacenti È un elemento Che fa Presagire Quindi Anche qui Uno spaccio Di droga Poche parole Del neo questore Di Chieti Sull'omicidio Accaduto ieri Nella cittadina Aragonese Con le indagini Ancora in corso È stato Un brutto episodio Non posso dire niente Perché c'è ancora Un'indagine in corso C'è ancora La magistratura Che 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 Sta esaminando Il caso Sotto le diverse Angolature Per cui Non posso dire niente E siamo La pagina Di Lanciano Ortona Vasto Sempre dal messaggero In trappola La banda Delle casse forti E la polizia Arresta un uomo Nascosto In un albergo Di Sarono Ultimo colpo In una casa In centro Bottino Da 200 mila euro E sempre a Lanciano Arrivano le prime Cinque postazioni Del 118 In attesa Che altri medici Accettino La sede E poi Ortona È nato Il movimento Pro-Marcheggiano Per quanto riguarda Invece Ancora notizie Dalla provincia Di Chieti A Civita Luparella Abuso edilizio Assolti I consiglieri Comunali Siamo alla pagina Di Teramo Del messaggero Teramo e provincia Scuole Riapre La De Giacobis Ma chiudono Due asili nido Sempre problematiche Per il post terremoto Il sindaco Di Teramo Maurizio Brucchi Va dal commissario Del terremoto Errani Tre istituti Delocalizzati Nello stadio A Piano Daccio Intanto L'assessore Luca Antoni Ha chiesto Lo scorporo Delle tariffe Per le mense E poi maltempo Ancora striscia La notizia In visita Dal sindaco E poi Le misure di legge D'Alfonso Soddisfatto Altri politici Meno E poi sanità Da 90 giorni Dipendenti Della cooperativa De Benedictis Senza stipendio Andiamo Nella parte bassa Della pagina A San Nicolò Entra in azione Il nebbiogeno E mette in fuga I malviventi Mentre Per quanto riguarda La Ateam Sfiduciato L'amministratore Delegato Ranagli Da Basaglia Doppia delega Per Bozzelli Fino alla riunione Della prossima settimana Tutto in diretta Skype E siamo a Giulianova Media Tutti all'Ipsia Appassionatamente Se il trasferimento Delle elementari Della scuola Dell'infanzia Di Coleranesco Non ha avuto problemi Si discute Sulla Pagliaccetti E poi domattina San Flaviano Si terranno I funerali Di Ieraci Mentre Restando sempre Nella cittadina Giuliese Si parla del servizio Pre-post scuola Gaspari Ricorre In appello Diamo in basso Ci spostiamo A Roseto Ginobili Escherrod Un disco Per gli aiuti Alle popolazioni Colpite Dalle ultime calamità E poi invece In Val Vibrata La cronaca Svaliggiata Nella notte Una tabaccheria Di Alba Adriatica Infine Martinsicuro Lattanzi Torna in tv E diventa Scrittore L'ex assessore Ai lavori pubblici Del comune Di Martinsicuro Siamo arrivati Alle pagine Dello sport Ma dobbiamo Passare a vedere Insieme Prima dello sport Le pagine del quotidiano La città di Teramo Per vedere quali sono Gli argomenti Trattati All'interno Del giornale Oggi In edicolo Ovviamente Poi nell'ultima parte Nell'ultima parte Di questo appuntamento Parleremo di sport Parleremo di sport Con un'intervista Che tra l'altro Vi posso anticipare Abbiamo realizzato Con il patron Del Teramo Patron del Teramo Luciano Campitelli Allora in attesa Che si Possa aprire La pagina Del quotidiano La città di Teramo Ripartiamo proprio Dallo sport Dal messaggero Perché si parla Del Pescara In questo caso Pescara Ora bisogna Salvare la stagione Il sistema Difensivo Più estremo Proposto da Oddo Contro la Fiorentina Ha funzionato Solo nella prima parte E dopo aver festeggiato Nel 2016 Gli 80 anni Club e città Devono riscattare L'umiliante Ultimo posto Idee chiare Per il futuro Campionato E poi parla Bayback Voglio segnare I giochi Voglio segnare I giochi Non sono fatti Dice l'ex giocatore Del Paris Saint Germain E poi verso la Lazio Partita speciale Per Oddo e Zauri Che sono i due ex Di questa partita Ed ecco qui La notizia Di cui vi stavo parlando Qualche istante fa Teramo Striscione Dei tifosi Davanti casa Del patron Campitelli Che ci resta male Dice Sono dispiaciuto Per la mia famiglia Ho dato tanto A questo club Con l'impegno Allora possiamo andare Ad ascoltare Proprio su questo argomento Come vi dicevo Le testimonianze E le dichiarazioni Del patron Biancorosso Presidente Questa mattina C'è stato un risveglio Un po' particolare Uno striscione davanti casa Da parte dei tifosi Può capitare Per quello che ho letto E' anche giusto Che loro L'hanno scritto Perché purtroppo Quando i risultati Non sono Brillanti Tutto quello che poi Gira intorno E' così Perché il tifoso Devo fare il tifoso E' giusto che lo faccia Io devo fare il presidente E queste cose Mi devono caricare Anziché scoraggiare Sono cose che possono succedere L'unica cosa che mi dispiace E' che poi le famiglie Come ben sappiamo Sono dispiaciute Perché Credo che noi Con tutti gli errori Che si possono fare Facciamo dei sacrifici Sopraumani Per poter portare avanti Un progetto così Importante Come oggi La Serie C Martedì sera Proprio in diretta A TV6 Lei aveva dato Un 9 al mercato del termo Adesso a mente fredda E' ancora dello stesso Suo parere O ha cambiato idea Per me vale sempre Tanto Perché sappiamo Quanti sacrifici Abbiamo dovuto fare Per togliere 12 giocatori E per poterne Prendere poi Un po' Di meno Però altrettanti Quindi Sicuramente I tifosi Giustamente Si aspettavano Forse Perché i tifosi Sono contenti Di quelli che abbiamo fatto Ma un pezzo più in avanti Ma Io ci ho provato In tutti i modi Senza pensare Al risparmio A ben sì Da tifoso Ma non ci sono riuscito Perché Più di quello Che abbiamo preso Davanti Non è stato possibile Come mai Oggi al campo Presidente Per caricare la squadra In vista di domenica Per parlare Con i ragazzi Ma io ho detto A tutti i ragazzi A Zauli Che sarò Il primo A difenderli Sempre Il primo A dovergli dire Quello che penso Sia a tutto Lo staff Che allora All'interno Nello spogliatoio E che dobbiamo Crearci tra di noi Un gruppo Molto solido Che Nei momenti Che ci saranno E saranno sicuramente Spero belli Ma Anche Nei momenti Meno belli Noi dobbiamo Essere vicini Uniti Perché Adesso Noi dobbiamo Fare la differenza E il primo A farla Devo essere io Che devo Sicuramente Stare vicino a loro O nel bene e nel male Questa è l'intervista In esclusiva Realizzata Al Presidente Il Patron Del Teramo Luciano Campitelli Proprio dopo Anche l'esposizione Di questo Stricione Intervista Realizzata Dalla nostra Ania Cantagalli Siamo alle pagine Come vi dicevo Del quotidiano La città Dopo aver Parlato Proprio Della vicenda Teramo Torniamo Alla cronaca Il decreto Terremoto Beff Per Teramo E Comuni Fuori Crater Il capoluogo I centri Già esclusi Dalla lista Ad ottobre Restano a secco Per la parte Che riguarda Le zone Franche E poi Rientro in classe I genitori Dicono no Alla scuola Spezzatino Il problema Sono le sedi Spezzettate Per soprattutto La Noe Lucidi E poi Andiamo ancora avanti Emorragia di iscrizioni Nelle zone interne Il provveditore Nardocci Pungola Sulle verifiche Di vulnerabilità E si dice pronto A prorogare I termini Delle iscrizioni Passo Le difficoltà Nell'entroterra Montorio Alvomano Domani Lezioni In piazza Per protesta Brucchi Si riprende La Teramo Ambiente Defenestrato L'amministratore Delegato Ipercritico Luca Ranalli Tutti i poteri Passano al presidente Pietro Bozzelli Proseguiamo Lavori lungo il corso Forse se ne riparla Lunedì La neve ha bloccato La riapertura del cantiere Intanto siamo entrati Nel terzo anno solare Per metà Progetto E poi De Benedictis Presidio dei sindacati Per lo stipendio Di dicembre A San Nicolò Abbiamo visto questa notizia Anche dalle pagine del messaggero Nebbia antifurto Mette in fuga I ladri Dalla tabaccheria E poi Troppa burocrazia Durante l'emergenza La Cives fa il bilancio Degli interventi Messi in campo Per soccorrere la popolazione Colpita dal maltempo Ieri vi avevamo proposto Un'intervista Con il presidente Dubaldo Siamo alla pagina Della provincia Indagine aperta Sull'incidente Al depuratore Carabinieri Vigili del fuoco Ferruzzo Sui loghi Dello sversamento tossico Di Mosciano Stazione In basso a Campli Consiglio comunale Straordinario Sulla frana Di Paduli E poi Val Vibrata Forse Fratelli d'Italia E Lega Preferiscono Tommolini Martinsicuro I partiti del centrodestra Indicano Il loro candidato Sindaco A Colonnella Nonno spacciatore Beccato in casa Tortoreto Due sedi in lizza Per gli studenti Della San Giuseppe Ad Alba Adriatica Colpo Con spaccata Alla tabaccheria Di via Duca d'Aosta In basso ad Ancarano Troppo pericolosa La provincia Chiude La strada provinciale 1B E siamo alla pagina Di Giulianova Mosciano Alunni di Colleranesco Alla De Amicis Quelli della Pagliaccetti Nel vicino Ipias Le proposte del Consiglio D'Istituto Dopo l'inagibilità Sancita Per le due scuole Poi anche a Mosciano Crescono i dubbi Sulla sicurezza Delle scuole A Giulianova E guerra di documenti Sul nuovo ospedale In basso Visite a domicilio Contro la depressione Post parto Siamo alla pagina Di Roseto Pineto A Tresilvi Partiamo da Roseto Sociale La nuova unione Dei comuni Sarà l'ennesimo Carrozzone politico Da Roseto E notaresco Critiche sull'organismo Che sostituirà L'ambito Tordino E poi Tasse Roseto e Pineto Approvano La rottamazione Delle cartelle In basso La pista ciclabile Anche i bagnatori Di Cologna Chiedono Delle modifiche Ancora seconda pagina Dedicata ai comuni Della costa Pineto ruba shampoo Tonno e gomme Da masticare Dal supermarket E poi tentato furto Maldestro Al distributore IP Di Cologna Spiaggia A Silvi La sfida Del partito Democratico Collaborazione O sarà Crisi In basso A Pineto Lavori sul Vomano Non condivisi Con l'opposizione Il consigliere Comunale Luca Di Petrantonio Abbandona L'assise In segno Di protesta Pagina della cultura Musica da camera Per la sinfonica Poi arriviamo Allo sport Con Il teramo E con Le dichiarazioni Di Campitelli Che abbiamo Ascoltato Al microfono Di Ania Cantagalli Che dice Contestazione Giusta Possiamo Tornare A parlare Di sport Dai quotidiani Il centro Ed il messaggero A tal proposito A proposito Di sport Possiamo andare A vedere Un attimo Velocemente Anche I titoli Dei tre Quotidiani Sportivi Oggi In edicola Partendo Dalla Gazzetta Dello sport Parla Cannavaro Presente Juve Futuro Inter Queste le dichiarazioni Del difensore Mondiale Poi Corriere Dello sport Juve Inter Da giganti Domenica Lo stadio Il derby D'Italia Si sfidano I club I più ricchi Della Serie A E poi Chiudiamo Con Tutto sport Juve Inter E di nuovo La sfida Delle sfide Nemiche D'Italia E dallo sport Nazionale Allo sport Della nostra Regione Ripartiamo Dal messaggero Avevamo visto La prima pagina Vediamo anche La seconda L'Aquila è viva Siamo in corsa Per la vittoria Parla Mister Morgia Dopo il successo Sul Rieti In serie D Parla invece Il centrocampista Manzo Che dice Lava stesse Si rifarà A Recanati E poi Giocatori e Tortora Prove di amore Del grande Avezzano Entusiasmo In casa Biancoverde Dopo la vittoria Nella recupero E poi eccellenza Gelsi Junior Nuova stella Del San Buceto Il papà Gelsi Senior Il caso di dire Michele Gelsi Nuovo allenatore Del Francavilla Abbiamo chiuso Con le pagine Dello sport Del messaggero Possiamo passare A quelle del centro Prima di salutarci Come detto Si pensa anche Alla gara Di domenica prossima Tra il Pescara E la Lazio Gara molto attesa Questa dai tifosi Biancazzurri Una delle tre gare A rischio Secondo L'osservatorio Per quanto riguarda Le manifestazioni Sportive Ovviamente Come anche Per le partite Con la Roma E con il Napoli L'intero settore Di curva sud Dello stadio Adriatico Sarà Riservato Ai tifosi Ospiti Ne arriveranno Da Roma Poche centinaia Però Per disposizione Proprio Dell'autorità Di ordine pubblico L'intera curva sud Dello stadio Adriatico Sarà riservata Ai tifosi Della Lazio Siamo alle pagine Dello sport del centro Come detto Una doppia pagina Che riguarda Il Pescara La resa Del Pescara Questo è il titolo principale I tanti perché Di un fallimento Struttura societaria Inadeguata Risorse gestite male Mercato disastroso I numeri Del Pescara 41 gara In Serie A Senza vittorie 6 pareggi conquistati 44 gol subiti 15 gol segnati 29 giocatori utilizzati 4 i rigori sbagliati E poi In basso I tifosi Mettono tutti Sotto processo Sarà contestazione Anche domenica Nella gara Con la Lazio Vedete la storia Tifoserie nemiche E questo spiega Le decisioni Dell'osservatorio Poi si parla Pagina 35 Della Lega Pro Campitelli Lo stricione Per me è una carica In più Dice il patron Del Teramo Poi la Serie D L'Aquila Alla riscossa Russo Il mio segreto Si chiama Massimo Morgia Infine il basket Roseto Cimorosi Dice Da domenica Si punta i playoff A Chieti La Proger Dice Bartocci Il neococce Deve cambiare Mentalità Siamo così Giunti al termine Dell'appuntamento Del 3 febbraio Con Mattino 6 Che tornerà domani Puntuale Alle ore 7 Grazie come sempre Per averci seguito Grazie a Gianni Dareo In regia Prossimo appuntamento Con l'informazione Di TV6 Alle 14 Con la prima edizione Del nostro telegiornale Grazie E buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti